Quest'anno ricordiamo un anniversario importante, triste purtroppo, e sono i dieci anni della scomparsa di Mario Rigoni Stern, scrittore di Asiago, che è diventato con la sua opera un po' il testimonio, possiamo dire, di tutta la montagna e anche un po' delle periferie del mondo in qualche modo, ha dato voce, ha dato spazio a tematiche, a persone, a luoghi che prima di lui erano sostanzialmente trascurati, dimenticati dalla letteratura. L'anniversario della morte è il 16 giugno, però c'è anche un altro anniversario che riguarda l'Università di Padova perché nel 1998, a maggio, aveva ricevuto la laurea ad honorem in scienze forestali, in scienze forestali proprio per la sua capacità di raccontare la natura. Allora, nella Lectio Magistralis, lui ricostruì il rimboschimento dell'Altopiano di Asiago dopo la Grande Guerra, con grande competenza, perché lui era molto preciso nella descrizione delle cose della natura, degli animali, delle loro abitudini, dei boschi, delle singole specie. Abbiamo fatto anche una mostra all'Orto Botanico di Padova qualche anno fa per ricordare proprio questo evento, una mostra di fotografie di un fotografo francese, Loixeron, molto bravo, che si è appassionato all'opera di Mario Rigonisterna. Abbiamo detto Mario Rigonisterna e la natura che è stato uno dei grandi temi della sua letteratura. Un altro dei grandi temi era naturalmente la storia, quindi storia e natura sono le due grandi forze, i due grandi valori che animano la sua opera e di cui lui si è fatto interprete presso l'uomo contemporaneo. Ed è questo probabilmente, il fatto di essere riuscito a interpretare, a raccontare attraverso i suoi libri in maniera semplice all'uomo contemporaneo queste due grandi forze che lo rendono ancora molto molto vitale, molto ascoltato, molto letto, molto amato anche a dieci anni della morte. Non è scomparso, ecco, questo io con il mio lavoro sui luoghi di Rigonisterna, l'esperienza che ne fa Mendicino, che ha scritto la biografia, adesso come presidente del premio Rigonisterna, quando vado e parlo di Mario Rigonisterna in qualsiasi posto d'Italia, c'è qualcuno che arriva e ricorda che gli ha scritto una lettera e lui gli ha risposto, che gli ha fatto una dedica, che gli ha scritto poche righe di introduzione a una mostra o cose di questo genere. Recentemente al Salone di Torino, al Salone del Libro di Torino, in Audi ha organizzato una maratona di lettura in cui alcuni dei maggiori scrittori italiani, parlo di Marcello Fois, Diego De Silva, Simona Vinci, Margherita Ogero, eccetera, eccetera, hanno raccontato il loro debito proprio letterario nei confronti di Mario Rigonisterna ed è stato ricordato che lui è un po' il padre di tanta letteratura di montagna contemporanea. Rigonisterna, abbiamo detto, è anche il cantore, oltre che della natura, della storia e in particolare la storia che lui ha vissuto direttamente sulla sua pelle, la Seconda Guerra Mondiale, ma anche la Prima Guerra Mondiale che lui non ha vissuto direttamente ma di cui ha visto gli esiti, perché lui è nato nel 21 quando è nato lui e tutti i primi anni della sua infanzia sono stati segnati dalla ricostruzione di un alto piano totalmente distrutto dai bombardamenti. Lui ha visto gli esiti, quindi ha giocato con i suoi compagni in mezzo letteralmente alle ossa che affioravano dei caduti, in mezzo alle spolette che esplodevano, che esplodevano letteralmente perché ancora non era fatta la bonifica da parte del genio, diciamo, dei residuati bellici e poi se n'è molto occupato come studioso, come ha approfondito, ha letto tutto quello che c'è stato scritto sulla Grande Guerra e l'esito di questa ricerca, a parte essere poi comparire nei suoi libri, nei suoi romanzi in particolare, è questo bellissimo libro che era stato promosso dal presidente Carlo Azzeglio Ciampi che scrive infatti la prefazione e in questo libro Mario Rigoni-Sterna si intitola La guerra sugli altipiani, testimonianze di soldati al fronte ed è stato edito da Neri Pozza con la Banca Popolare di Vicenza e sostanzialmente lui ha raccolto testimonianze di semplici soldati ma anche di generali e soprattutto di scrittori che sull'altopiano hanno combattuto e quindi ci sono i suoi maggiori ispiratori, c'è l'Ussu, c'è Monelli, c'è Carlo Emilio Gadda, ci sono gli stranieri, i nemici diciamo, c'è Musil o Fritz Weber che raccontano ognuno dal suo punto di vista la testimonianza sulla Grande Guerra ed è veramente un'opera monumentale ma piena di fascino, di umanità perché ci sono tantissime voci che raccontano appunto la guerra di cui quest'anno appunto c'è l'altro centenario alla fine della Grande Guerra per cui ecco anche questa è una cosa che per esempio in occasione del premio Rigoni Stern che quest'anno si è svolto il 24 marzo a Riva del Garda abbiamo voluto ricordare questo anniversario ma in prospettiva di pace, cioè l'anno in cui finisce la guerra e poi si comincia la ricostruzione. Fra le altre iniziative che sono numerose iniziative che sono state promosse intorno alla figura di Mario Rigoni Stern nel decennale abbiamo citato il Salone del Libro di Torino dove anche la Regione ha ricordato Rigoni Stern brevemente e poi Montebelluna lo sta ricordando perché Montebelluna è stata, gli ha dato la cittadinanza onoraria e poi ad Asiago ci sono naturalmente una serie di iniziative, concerti con Pepe De Marzi che era suo caro amico, presentazioni di libri, incontri, convegni di vario tipo quindi diciamo che a dieci anni possiamo dire che la sua figura è ancora molto viva. In particolare è stato pubblicato questo libro che raccoglie gli atti di un convegno che ha aperto le celebrazioni per il decennale che si è svolto nel novembre del 2017 e ci sono quasi una trentina di voci che raccontano i vari aspetti di Mario Rigoni Stern a dieci anni della sua scomparsa e questo libro che si chiama Rigoni Stern, un uomo, tante storie, nessun confine, mette insieme in maniera molto organica e è diventato un libro di lettura, non sono dei semplici atti di un convegno. Nella lezione magistrale che è tenuto in quel maggio del 1998 naturalmente ringraziando e dicendosi commosso per questo riconoscimento, Mario ricordava i legami che la sua famiglia e l'Altopiano ha sempre avuto con Padova e con la sua università, con Padova in particolare per motivi anche religiosi nel senso che la diocesi dell'Altopiano è quella di Padova e scrive Mario nella sua lezione, lo ha detto in quel momento, mi sento piccolo oggi qui e in questo momento penso anche a quando dalla mia terra montanara che tanti legami aveva con Padova i nostri avi scendevano per attingere sapere. A questa università, a loro, a tutti voi qui presenti, la mia riconoscenza è come venisse dal profondo della foresta.